Siamo di nuovo qui, speriamo di finirla, altrimenti la storia continua, ma insomma io penso che comunque di dire sempre cose abbastanza interessanti che possono interessare anche il pubblico, quelli a casa, perché parliamo sempre comunque di ballerini. Comunque noi speriamo che la gente torni a riempire le sale in qualche modo. Ecco, e qui arriviamo al punto di parlare un attimino dei ballerini, i ballerini perché non vanno più a ballare? Perché i ristoranti sono pieni a mangiare e non vanno a ballare, ma c'è dei motivi perché non vanno più a ballare, io secondo me il ballerino quello che ama la musica comunque va, quello che non ama la musica e va tanto così per ballare, ma poi c'è quello che ama ascoltare, Però se tu ascolti la base di Baguti... E poi vai da un altro e ascolti la stessa base... Allora dillo a te, non parlo più io, dai parla a te, così passi cattiva. Cioè il problema è che se... Passa un po'. Devo passare io per cattiva? Allora, no, il problema è che se tu vai in un locale questa sera e senti una determinata sonorità, diciamo così, poi vai la sera successiva e senti la stessa sonorità e sono solo cambiate le facce sul palco, poi vai la terza sera e della stessissima sonorità delle altre due sere, ma sempre con delle persone cambiate. Cosa vuol dire questo? Che stanno usando tutte le medesime basi addirittura? E questo è un grosso problema ragazzi, molto grosso. Questo è un problema che può toccare anche tuo marito, perché poi sarebbe giusto che ogni orchestra facesse delle basi personalizzate. Le proprie, è quello che noi ci sforziamo di fare, non solo, ma vi inviterei tutti ad usare il metodo americano perlomeno, perché il metodo americano prevede che i musicisti che sono sul palco suonino e al massimo in base ci deve essere soltanto quello che non può essere riprodotto sul palco perché mancano gli elementi. Mi sembra un metodo molto giusto che è quello che usiamo anche noi nel nostro piccolo, noi attualmente abbiamo una formazione molto piccola, eppure chi ha la chitarra in mano la suona, chi ha la voce come nel mio caso canta, chi ha la fisarmonica è messo in condizioni di suonare sempre la sua fisarmonica, questo dovrebbe essere. Facciamo le basi che siano adatte anche a mettere la fisarmonica nel vivo. Infatti, questo è il punto. Il discorso comunque è quello lì, quindi il ballerino dice ma tanto vado a vedere Baguti e poi vado a vedere, adesso faccio per dire, x, y e uguali. Ecco, è la stessa cosa, non va bene assolutamente, ognuno dovrebbe avere una certa personalità come nel cantare, come nel suonare, la stessa cosa. Se tu senti Mario Piovano, parlo sempre di Mario Piovano perché è stato il mio maestro, quindi lasciamo perdere tutto il resto, però Mario Piovano lo rispetto al mille per mille come musicista e mi ha insegnato molto e devo dire la verità, Mario Piovano, la sua fisarmonica in mezzo ad altre 500 fisarmoniche, si sente che è la sua, si sente tutte le altre, le senti mille note, 3000 note, e non sai cosa suonano, non hanno cuore, è lì il discorso. Hanno solo tecniche ultimamente. È così, vedi che fa parai con la testa. Abbiamo il nostro caporegista che è anche un grande fisarmonicista. Cosa vuoi ancora sapere? Poi chiudiamo. Chiudiamo? Allora togliamoci dalla causticità e andiamo sulle cose tranquille, voglio soltanto sapere o far sapere a casa, so che tu hai un hobby particolare a casa, collezioni delle cose. Vuoi dire alla gente a casa cosa sono? Allora io colleziono da 30 anni, naturalmente a livello amatoriale e quindi senza spendere soldi o perlomeno pochi, orologi antichi. Ma perché? Perché il gusto di ascoltare un orologio è una cosa bellissima, nel silenzio, in una stanza, il ticchettio di questo orologio è il battito, il ticchettio, è una cosa favolosa. Oppure la più bella cosa è il suono del cucù. Ricordatevi che il suono del cucù vi tiene, avere un cucù a una certa età, una donna o un uomo, in modo particolare la donna, io parlo perché c'era mia suocera che era anche ammalata ed era in una stanza dove ascoltava questo cucù. Quando si fermava, perché bisognava pulirlo, mi diceva Martino, fai presto, fai presto, farmelo riparare, perché non restava più senza il cucù. Questo suono di tutte le ore, cucù, 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 era fantastico. Era una compagnia, insomma. Era una compagnia. Noi ringraziamo Martino, sono state alcune settimane veramente divertenti. Io mi sono divertita. Tu sei stata la mia compagnia, ti vorrei in un'altra maniera, ma va bene anche così. E' sempre galante uguale, devo dire. E' vero, no? Sei un galantuomo. Allora, ascolta, noi tanto ci vediamo per forza, perché noi ci vediamo ancora. E meno male. Invece se poi ci capiterà di avere altri appuntamenti, perché magari a me potrebbero anche venire in mente altre cose, penso che tu sarai disponibile. Io sono sempre disponibile. Se servono a far capire... Qualcosa a casa, insomma. Qualcosa a casa. Ai giovani dico, velocemente, proprio per dire a chi ha intenzione di mettere su un'orchestra, non mettetela giù. C'è te perdo. No, no, andate a suonare. Fatevi una bella esperienza, perché tutte le orchestre cercano degli elementi, in modo particolare seri. Se siete delle persone serie, andate a suonare e non guardate i soldi. Non guardate i soldi, perché è come imparare a riparare un orologio antico. Prima il mestiere bisogna impararlo. Prima bisogna imparare il mestiere e poi dopo si può, col tempo, avere l'esperienza per mettere su un'orchestra, capire quali sono i problemi del capo orchestra. Capire i problemi del capo orchestra per portarli nei tuoi problemi, per poterli poi risolvere. Speriamo, dico questo, ragazzi, suonate, suonate perché la musica è la cosa più bella. A tutti gli autori di canzoni, qui ne abbiamo, abbiamo l'Adriana, Adriana Paolucci. E Rosario. E Rosario. A tutti gli autori dico, dai, impegnatevi a fare belle canzoni e ai musicisti è la stessa cosa. Cerchiamo di fare delle belle canzoni, perché la gente ha ancora bisogno di bella musica. Grazie a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Grazie.